Diletta Leotta in forma smagliante balla in radio, e il collega le rovina lo stacchetto. L'outfit della conduttrice radiofonica è da infarto. Invece di creare un polverone mediatico e causare malumori, pare che Diletta Leotta abbia preso più che bene le voci di gossip che la riguardano. Tra tapiri, paparazzi, post di denuncia sui social, la conduttrice non sembra aver accusato il colpo, anzi, è tornata più in forma di prima su social, radio e tv. Outfit sempre da vietato ai minori, anche in radio dove quello che conta è la voce. La modella prestata al mondo del giornalismo si è letteralmente scatenata nella mattinata di oggi. Diletta, tramite le sue storie infatti, si è mostrata in una tuta aderente, top e pancia di fuori, nel bel mezzo di uno stecchetto più da velina che da conduttrice radiofonica. E il collega l'ha accompagnata. Ha scritto, momenti di delirio, nella didascalia della storia. Diletta ha condiviso nella mattinata di oggi un paio di video, in compagnia di Daniele Battaglia, in cui si è mostrata nel bel mezzo di una danza sensuale direttamente dalla redazione di Radio 105. Il collega intanto ha provato a disturbare la donna, che si è divertita a coinvolgerlo. Boccacce, linguacce, e un clima sicuramente disteso per i due speaker. Nel secondo video infatti, Battaglia si è dovuto unire al ballo della collega, a ritmo di musica latina. Entrambi i video, condivisi pochi minuti fa, sono ancora disponibili dal profilo Instagram della Leotta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.